Con l'imminente arrivo della commemorazione dei difunti, il comune di Santo Stefano di Camastra ha provveduto alla pulizia straordinaria dei cimiteri comunali. Un fitto programma di interventi di riqualificazione all'interno delle due strutture cittadine, attraverso anche le segnalazioni giunte dagli stessi cittadini. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati all'interno dei due cimiteri si sono da poco conclusi, con l'obiettivo di mantenere il decoro e la corretta funzionalità di questi luoghi sacri di culto della memoria dei difunti. Si tratta di piccoli e grandi lavori di manutenzione, ma anche di ottimizzazione degli interventi ordinari che interessano le aree verdi, i vialetti ed i percorsi interni alle aree cimiteriali. Si sta quindi provvedendo alla messa in sicurezza degli spazi che costituiscono il passaggio tra le varie tomba, la cura del verde, dalle piante alle piccole e grandi alberature. Il patrimonio cimiteriale comunale è particolarmente vasto da richiedere un'attenzione e una cura continua, in particolare per quanto riguarda la manutenzione del verde. Ci abbiamo pensato per tempo e con il giusto anticipo agli interventi di pulizia straordinaria per i nostri cimiteri cittadini, al fine di accogliere la ricorrenza del ricordo dei nostri cari. Noi proviamo a farci trovare pronti, ha dichiarato l'assessore Santo Rampulla. Speriamo che tutto fili liscio per come abbiamo programmato. E per questo, continuare a Bulla, vorrei fare un plauso particolare agli uffici comunali e alla ditta esterna che ha effettuato gli interventi di manutenzione del verde. E' obiettivo di questa amministrazione, conclude l'assessore Rampulla, mantenere una qualità elevata nella cura dei cimiteri cittadini, attenzionando soprattutto la salvaguardia delle sepolture monumentali, preservandole dall'inesorabile degrado causato dal trascorrere del tempo. Durante le giornate di pulizia straordinaria i lavori non hanno causato disagi agli utenti fruitori.